Un ospite graditissimo, un eterno ragazzo, Matteo Musti, vinse a Varese nel 2003 con la Clio, con la Clio Win al 7 marce. 7 marce di Balboasca all'età ormai di 27 anni, avevo 27 anni. Incredibile. È bello ritornare qua, ormai dopo 18 anni ho fatto tutti i calcoli, perso il preciso. Matteo, ti abbiamo disturbato per conoscere di più e meglio cosa si monta come gomme, la dotazione di pneumatici. Ma allora, noi abbiamo tre tipi di gomme, abbiamo le D5, le D7 che in questo momento non le vedo e le V7. Chiaramente come vedete, come è fatto il pneumatico V7, queste sono le uette, in caso di pioggia usiamo questo modello. Oggi, visto le temperature che si sono alzate, però siamo sempre attorno ai 12-13 gradi, non ci sono ma comunque noi usiamo le D7 che sono più morbide delle D5. In questo caso le D5 le useremo nel retrotreno, diciamo noi nella trazione ce l'abbiamo posteriore, potremo anche usarle, le D5 perché è una mescola leggermente più dura della D7. Il carico è maggiore al posteriore. Però diciamo che le temperature ci permettono ancora di usare delle D7. Ecco, la difficoltà nell'uso della gomma, nella scelta gomma, diciamo che è determinante. Beh sì, sinceramente sì, è molto determinante, ma comunque in questo rally che presenta delle prove speciali diciamo abbastanza ridotte come chilometraggio, arriviamo a 12 chilometri come massimo, quindi non è così determinante. Diciamo che la temperatura e la distanza della prova speciale ci permettono di usare ancora una gomma morbida. Con il team manager di Giacomo Gliari, ma di tantissimi altri piloti, qui anche di Gregoire Ozz, Giorgio Molinaro da Villa Guardia, sentiamo quali sono le gomme che si montano in un rally dei laghi dal tempo direi asciutto, direi anche primaverile a questo punto. Ciao a tutti, innanzitutto. Qua, vabbè, abbiamo provato le 7 fino a stamattina che è una mescola media delle Pirelli e lui si è trovato anche molto bene. Il tempo è veramente caldo, è primaverile, quindi abbiamo adesso per l'ultimo giro di Shakedown abbiamo provato anche le 5 che sono le più dure. RK5. RA5, sì, abbiamo provato le RA5, quelle nuove. E adesso ci darà un risponso Gregory che è due anni che non sale in macchina, però mi sembra che si comincia a riprendere in mano le cose molto molto bene, molto bene.